A parte gli scherzi, benvenuti in questo kanda nascosto. La scorsa puntata abbiamo completato il gioco con un finale che veramente mi ha lasciato wow, veramente incredibile. Oggi invece andiamo sui kanda perduti, ne abbiamo due. Finalmente uno più arrabbiato di me e il più forte contro il più arrabbiato. Andiamo con il primo. Uno dei guerrieri più valorosi si staglia di fronte ad Asura, il suo nome è Ryu. Sfida Asura a duello e si scambiano così colpi su colpi in un duro scontro. Tuttavia Ryu viene consumato dal Satsu Inohado. Vediamo come verrà consumato. Hanno le voci solo in giapponese, vabbè chi se ne frega. Credo che non ci sia... Ok scusami, stavo controllando cosa stava succedendo. Credo che non ci sia una vera correlazione fra questo... Asura versus Ryu. Non ci sia una vera correlazione fra quello che succede qua e quello che è successo nella storia. È solo fanservice. Dove sono? Beh non è la prima volta che mi mandano in qualche posto strano. Che diavolo sei? Sono Ryu, chi me lo chiede? Asura. Asura, vero? Che ne dici? Vuoi fare un incontro? Perché sì, dai. Eh? Sembra un degno avversario. Non ne hai idea. La domanda è, chi sei tu? Beh... Beh, con le voci in giapponese ci sta. Ci sta veramente comunque. L'eterno sfidante. Quadrato? Ok, si è sentito poco, ma voglio... Ah! In questo modo? No! Salto a fuoco pesante? No, ti prego. No, col sistema... Veramente di Street Fighter? Così? No? Fammi indovinare. Devo completare la furia. Per fare in modo che questa parte così finisca, secondo me. Ma dai, mi ha stannato! Devo fare un attacco pesante, mi sa. Mi dispiace. Evitato. Vecchati sto pugno, incredibile, stronzo! Che secondo me, quando fa così, lui vuole fare tipo la Duken. Solo che poi... Fa l'attacco normale col pugno. Allora, fosse finita qua, direi. Che stronzata. Però, so benissimo che non finisce qua. Ah! Ok, non ne aspettavo... Il doverlo rifare, però... Va bene, ci sto. Guarda. Carica i pugni, sembra che fa la Duken e poi... Super cazzottone. Che poi io non mi posso parare, mi sa. Posso schivare. Scusami, Azura. Stavo... Stavo controllando gli altri tasti. Posso schivare con R1. Ma niente più. Ok. La mossa alla Street Fighter non me l'aspettavo. Però fighe queste inquadrature. Sì. Ma perché ogni pretesto... È per finire nello spazio, Azura. Ma che cacchio. Perché è finito... Ah, sì, è morto il controller. Ogni pretesto è per finire nello spazio, Azura. Che poi... Allora, devo essere sincero. Non gioco molto a Street Fighter. So veramente poco della storia. Ma non so se... Se Ryu non è umano. Non penso che... Fossa respirare al di fuori... Della terra. Però vabbè, siamo in un videogioco, sti cazzi, cioè. Sono dettagli inutili quelli che sto mettendo... In punto. Ed eccolo lì. Super incazzato e anche baffato. L'incarnazione dell'odio. Oh, ti dicono... I dialoghi sono in giapponese. Però... Di dialoghi io qua... Ne ho visti veramente pochi. Ma proprio pochi. Santo cielo. La guaina della spada di Augus. Che poi l'ambientazione della luna è ancora così. Quindi, o è un tempo distorto in cui siamo sopravvissuti. Oh, questo succede comunque dopo il combattimento con Augus. Fatti sotto, stronzo. Buongiorno, eh, signorino. Ma dai! Non posso fare gli attacchi volanti. Tutti gli attacchi volanti che io faccio. Vai, 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 no! Troppo tardi. Dai! Hai rotto i coglioni questo Sor Yuken, eh? La voce di azzurra in giapponese comunque è figa. E non la potevo neanche schivare questa mossa, eh? E questa è la prima volta che vediamo azzurra tirare fuori la lingua per il dolore. Questa mossa, ragazzi, non l'ho potuta neanche schivare. Me l'ha fatta e basta! Ha addirittura risistemato il pezzo di luna che era stato rialzato dopo il combattimento con Augus. Ma guardalo, è impossibile schivarlo! Se ti prende nella combinazione non puoi schivarlo! Assurdo, eh! Dio mio, mi sa che qua ci crepo, eh! Mi sa che qua ci crepo perché mi è rimasta poca vita. A meno che non gioco hyper safe o arrivo la furia subito. Guardalo, guardalo! Se ti mette nella combo è la fine! Se ti inserisce nella combo, per te è la fine. Non puoi più muoverti. Questa era una mossa di Kidniku. Dai! Azur! Questa era una mossa un po' bardina, eh, da parte tua. Te lo devo dire. Gli hai praticamente spaccato le balle. Guardalo! Gli ferma le braccia, gli apre le gambe e giù di ginocchiata potente nei sensi. E per fortuna la mia furia è piena ora. Meno male che non c'era il tempo. Io non sono mai stato bravo nelle combinazioni di tasti tipo Tekken, Street Fighter. Queste cose qua. Chi avrà vinto? Io. Mi dispiace, Ryu. Potente quanto cacchio vuoi, però... Cazzo, è stato veramente dura, eh. È stata veramente dura questa battaglia. Ci sai fare? Non sei male neanche tu. Quello non era il vero me. Combattiamo ancora. Finirei per perdere. Che cosa? Chi abbiamo qui? Le tue abilità promettono bene. Allora, dura poco questo scontro. Però... Cazzo. Ho avuto l'impressione di perdere assolutamente durante questa parte. Soprattutto quando mi ha fatto quella combo incredibile. La voce di Asura in giapponese non è brutta. Ma ti dirò che quella inglese mi piace molto di più. Quella di Akuma, invece, è sempre figa. Too bad continued. Wow. È durato... I crediti che davvero. È durato 15 minuti dall'inizio della mia registrazione alla fine. Ma lo scontro è durato 4 minuti. E prendo la... Oh, sempre... Hai sbloccato la modalità missioni sblocca più sfide per ogni volta che giochi. What? Quindi, signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione trovate il link per trovarmi sul sito Viola. E ci vediamo la prossima puntata con l'ultimo Kanda. Ebbene sì. Ciao a tutti.